Domande e risposte sulla paulogna. La paulogna resiste al gelo? Resiste fino a meno 15. Dove va posizionata la paulogna? Posizione più luminosa possibile e terreno d'eclibio ben drenato. Il primo nemico della paulogna è il ristagno idrico. Se in un terreno sfittico o che ristagna l'acqua, la paulogna nelle migliori delle ipotesi non cresce e nelle peggiori muore. Quando va fatto il taglio tecnico della paulogna? Esclusivamente quando abbiamo la pianta ancora erbacea. In inverno vende a gelare la parte erbacea e rimane solo la parte legnosa. Vi faccio un esempio qua, come potete vedere qua è legnosa e qua già parte la parte erbacea. Siamo a giugno, andare ad ottobre lignificherà di più, però rimarrà una punta erbacea che tenderà solitamente a gelare. Quella punta lì magari la andiamo a tagliare in una pianta lignificata così non c'è neanche bisogno solitamente e si fa il taglio tecnico nelle piantine piccole e dopo che le hai piantate ti diventano anche altre due metri in una sola stagione, però l'anno dopo ripartono magari a 20 cm da terra. In quel caso lì andiamo a tagliare tutta la parte gelata e da lì riparterà la ramificazione delle paulogne. Se ripartono tre o quattro paulogne, tre o quattro ramificazioni, ma se vogliamo tenerla ad albor teniamo un ramo e lo tiriamo ad albor. Se invece la vogliamo a cespuglio teniamo tutti i tre o quattro rami. La paulogna ha una forma cespuglia. Quando fiorisce la paulogna? Molta gente ordina la paulogna per la sua fioritura spettacolare perché è una pianta mellifera. Fiorisce tendenzialmente se si trova bene, se è cresciuta così dopo cinque o sei anni. E' quindi già un esemplare, così dovrebbe già fare dei fiori, verso aprile, maggio, dipende poi dalla stagione. Quanto diventa alta la paulogna? La paulogna è la pianta più veloce di tutte, se si trova bene. Quindi può raggiungere molto velocemente anche i 15-20 metri, sto parlando in 4-5 anni, ma si deve trovare bene. La paulogna è un portamento molto slanciato, in verticale. Dopo che raggiunge circa i 15 metri tende a ramificare, ad allargarsi di più. Quindi dopo sembra un albero normale, al momento sembra quasi un'antenna parabolica. La paulogna è infestante? Sì, è infestante. Era proibita come pianta da riforestazione. Cresceva spontaneamente nelle scarpate del meridione, nelle zone incendiate. Si trova bene in terreni poveri. Essendo una pianta che tende a fare tanti fiori, si riproduce molto facilmente. E quindi tendeva a colonizzare intere scarpate. Ovviamente in ambito urbano uno riesce a gestirla molto bene. Quindi non è che uno ne pianta una in giardino e si ritrova le paulogna in casa. Uno le può gestire facilmente. Basta togliere le piante vegetate, che non sono tantissime. Cioè in una condizione di prato è difficile che radichi insieme alla paulogna. La paulogna è una pianta facile? In condizioni ottimali di terreno, quindi terreno non ristagnante, terreno declivio, terreno sabbioso, è la pianta che cresce più veloce in assoluto. Quindi è la più facile di tutte se uno vuole un albero a rapida crescita. La paulogna perde le foglie in inverno? Sì, la paulogna perde completamente le foglie in inverno. Tendenzialmente la parte apicale del tronco, che è erbacea, tende a disseccare. A che distanza piantare le paulogne? Se uno vuole qualche esemplare singolo, io lo terrei a 5-7 metri da casa e dalle altre alberi, ovviamente. Se uno invece vuole fare un impianto, ci sono diversi sesti di impianto, li trovate online. Se uno vuole farli ad albero, tendenzialmente è 5x5. Se uno invece vuole farli a cespuglio per la creazione di biomasse e per il fogliame, il sesto di impianto è più stretto, 4 metri e mezzo fa la pianta, 2 metri e mezzo fa le file. Le paulogne possono essere spedite a casa? Certo, questa più piccola è la più facile da spedire. Riusciamo a spedire anche l'esemplare da 79 euro, debitamente potato. Vi ritroverete con poche foglie, quelle più aderenti al legno. Non abbiate paura, la paulogne non ha paura delle potature, rivegeta immediatamente, specialmente quando fa caldo. Quanto costa una paulogne? Taglia piccola, vaso 9x9, 3,90 euro. Con una scontistica che arriva fino a 2,50 euro in base alla quantità, specialmente perché devi fare degli impianti, se è una grossa quantità. La taglia piccola, da un metro e mezzo, un metro e trenta, costa 29 euro, già lignificata. La taglia più grande, come vedete, questa alta, un metro e trenta fuori vaso, molto lignificata, costa 39 euro. La bestia, il terrore per gli spedizionieri. La paulogne alta 2,50 euro, 3. Questa qua è così in divaio, dobbiamo potarla drasticamente per tenerla sotto a 2,50 euro. Vi ritroverete una pianta molto potata, delle foglie aderenti al tronco, ma non abbiate paura perché rivegeta molto velocemente in estate. Tutti i formati di paulogne, da 3,90, 2,90 con lo sconto, da 29 euro, da 39 euro, da 79 euro, le trovate sul sito sassigarden.com, spediamo in tutta Italia, e anche questa bestia qui. Oppure le trovate fisicamente da Sassigarden, siamo fra Parma e Reggio Emilia.